Ciao raga, sono Pietro e ben ritornati in questo video. Oggi è sempre la serie, parliamo sempre la serie di calcio di Pietro. Bene, oggi voglio parlarvi di questo. Anche se vedo già parlato ieri, come ben sapete. Allora, innanzitutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella se volete un altro episodio di calcio, insomma in generale, se volete un altro episodio fatto da me e lasciate molti mi piace per supportarmi. Ora iniziamo con il video raga. Parliamo dell'argomento di ieri, ovvero dei convocati di Mangini in nazionale. Ieri ho pure fatto le formazioni, ma su OneFootball, perché, ora io non ve la metto in descrizione oppure al primo commento, ma OneFootball è praticamente un'app di calcio dove puoi seguire tutte le squadre. Non tutte, ma quelle che vuoi segui, soprattutto la serie A, se vuoi puoi seguire anche la serie B, la serie C, eccetera. Puoi dire quale è la tua squadra del cuore, tipo in questo caso la mia è la Juve, ma anche tipo l'Inter, il Milan, il Napoli, la Cremonese, eccetera. E quindi mi invito a scaricarla, anche se non ve la do. La descrizione, il link nella descrizione al primo commento. Però, a proposito di Cremonese raga, su questa povera OneFootball ho letto una notizia che non me lo sarei mai aspettato da Mangini. Direttamente dalla Cremonese è stato convocato per l'Italia Marco Carnesecchi. Questo non me lo sarei mai aspettato da Mangini. Convocare un, forse è giovanissimo, aspettate che, vabbè, non cerco la vita di Marco Carnesecchi, ma penso che sia giovane, perché giocava tipo nell'Italia dell'Under 20. Una roba incredibile. Convocare un giovanissimo che giocava nell'Italia dell'Under 20. Voglio dire, non me lo sarei aspettato da Mangini. In effetti, poverino, lui sta solo alla Cremonese, non gioca mai in nazionale. Poteva convocare pure De Sciglio, no? Vabbè, vabbè che Mo De Sciglio non gioca più con l'Italia. Cioè, è italiano, ma con la nazionale non gioca più. Però, guardate, magari nella mia formazione di Contro e Malta possiamo mettere... Vorrei mettere Falcone, lasciando stare che io, oltre ad essere giuventino calabrese, un calabrese giuventino, sono simpatizzo il Cosenza. E lasciamo stare che Falcone ha giocato pure nel Cosenza. Ma... Ora che ci penso, vorrei vedere più Marco Carnesecchi, perché soprattutto è molto, ma molto più giovane di Falcone. però non me lo sarei mai aspettato da Mancini, ecco. E quindi niente, raga. Quindi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like per supportarmi. E quindi, dal vostro Pietro, è tutto. Ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!